Il sito ufficiale è da consultare per verificare se un paese è a rischio e viaggiare sicuri.it del Ministero degli Esteri che viene costantemente aggiornato sulle nuove restrizioni che i singoli paesi esteri hanno deciso di applicare ai viaggiatori provenienti dall'Italia. In questo momento alcuni paesi hanno predisposto un periodo di quarantena per chi viaggia dall'Italia, nello specifico si tratta di Regno Unito, Romania, Malta, Israele, Polonia, Emirati Arabi, India e Croazia. Ci sono poi alcuni paesi nei quali non è al momento consentito l'ingresso agli italiani, Giordania, Iraq, Turkmenistan, El Salvador, Isole, Seychelles, Mauritius e Kuwait. Per quanto riguarda i rimborsi saranno possibili se previsti dalla propria assicurazione di viaggio in base alle condizioni della singola compagna aerea. Che a terra a Pechino da paesi che sono stati colpiti da coronavirus è tenuta a 14 giorni di autocuarentena in modo tale da evitare un'epidemia di ritorno. Non è stata impedita la mobilità da e verso i 27 paesi dell'Unione Europea, come confermato dal Ministero degli Affari UE. In Olanda è stato ordinato di non andare nei comuni italiani che rappresentano il focolaio. La Francia ha mandato a casa bambini e ragazzi che sono stati in gita in Lombardia o Veneto negli ultimi 14 giorni e ha previsto dei controlli sui treni francesi della linea Parigi-Milano. Nessuna limitazione da parte della Germania, mentre a Praga vengono controllati in aeroporto i passeggeri che provengono dall'Italia e la Compagnia Nazionale Bulgara ha annullato tutti i voli da e per Milano fino al 27 marzo, per il quale è previsto il rimborso totale. Chi viaggia in treno, aereo, macchine e qualsiasi altro mezzo deve prestare più attenzione del solito al rispetto delle normali norme igienico-sanitarie, ma non sono in vigore limitazioni per i spostamenti sul territorio nazionale, ed eccezione nelle zone rosse che in Italia sono gli 11 comuni lombardi di Bertonico, Casal, Pusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fondio, Maleo, San Fiorano, Somaia, Terranova dei Passeri nel comune di Vo in Veneto. Chi è stato nelle zone rosse negli ultimi 14 giorni è tenuto a comunicarlo all'ASL, che disporrà la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. Se si manifestano sintomi influenzali è consigliato di non intasare i numeri dedicati all'emergenza, alla comparsa del primo colpo di tosse, in quanto ci troviamo anche nel periodo di maggiore diffusione dell'influenza stagionale. Nel caso di comparsa di sintomi come febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e difficoltà respiratorie, bisogna evitare di recarsi in ospedale al pronto soccorso. Se si sta per partire all'estero si può contattare l'autorità italiana competente e il servizio sanitario locale. In caso di viaggio in Italia bisogna rivolgersi al proprio medico di base, contattandola ai numeri nazionali 1500 e 112. Ogni regione italiana ha comunque messo a disposizione un numero verde regionale al quale rivolgersi in caso di necessità, che è disponibile sul sito del Ministero della Salute.